Chiunque vi aiuterà a propagare questa devozione sarà mille volte benedetto, ma guai a coloro che la rifiuteranno o d'agiranno contro il mio desiderio al riguardo, perché li disperderò nella mia collera e non vorrò più sapere ove siano. Egli mi ha fatto intendere che coronerà e rivestirà di gloria particolare tutti coloro che avranno lavorato per far progredire questa devozione. Egli rivestirà di gloria davanti agli angeli e agli uomini nella corte celeste coloro che lo avranno glorificato sulla terra e li coronerà nella eterna beatitudine. Ho visto la gloria preparata per tre o quattro di questi e sono rimasta stupefatta dalla grandezza della loro ricompensa. Rendiamo dunque un grande omaggio alla Santissima Trinità adorando il Sacro Capo di Nostro Signore come Tempio della Divina Sapienza. Nostro Signore rinnovò tutte le promesse che fece di benedire tutti coloro che praticheranno e propageranno questa devozione in qualche maniera. Benedizioni senza numero vengono promesse a coloro che proveranno a rispondere ai desideri di Nostro Signore propagando la devozione. Comprendo anche che per la devozione al Tempio della Divina Sapienza lo Spirito Santo si rivelerà alla nostra intelligenza o che i Suoi attributi risplenderanno nella persona di Dio Figlio. Più praticheremo la devozione al Sacro Capo, più comprenderemo l'azione dello Spirito Santo nell'animo umano e meglio conosceremo ed ameremo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nostro Signore ha detto che tutte le sue promesse relative a coloro che ameranno ed onoreranno degnamente il Suo Sacro Cuore, varranno anche per coloro che onoreranno il Suo Sacro Capo e lo faranno onorare dagli altri. E di nuovo Nostro Signore ha impresso in me che spanderà il centupro su quelli che praticheranno la devozione al Tempio della Divina Sapienza tutte le grazie promesse a coloro che onoreranno il Suo Sacro Cuore. A quelli che mi onoreranno darò dalla mia potenza. Io sarò loro Dio e loro miei figli. Metterò il mio segno sulle loro fronti ed il mio sigillo sulle loro labbra. Egli mi ha fatto intendere che questa Sapienza e luce è il sigillo che marca il numero dei Suoi eletti ed essi vedranno il Suo volto ed il Suo nome sarà sulle loro fronti. Nostro Signore le fece intendere che San Giovanni parlò del Suo Sacro Capo come Tempio della Divina Sapienza negli ultimi due capitoli dell'Apocalisse ed è con questo segno che è stato rivelato il numero dei Suoi eletti. Nostro Signore non mi ha fatto chiaramente conoscere il tempo in cui questa devozione diverrà pubblica, ma capire che chiunque venererà il Suo Sacro Capo in questo senso attirerà su di sé i migliori doni del cielo, in quanto a coloro che tenteranno con parole o d'opere di impedire questa devozione, saranno come vetro gettato a terra o d'un uovo lanciato contro un muro, cioè saranno vinti e danni intati, seccheranno ed appasseranno come l'erba sui tetti. Ogni volta Egli mi mostra le grandi benedizioni e le abbondanti grazie che riserva per tutti coloro che lavoreranno per il compimento della Sua Divina Volontà su questo punto. Preghiera quotidiana al Sacro Capo di Gesù O Sacro Capo di Gesù, Tempio della Divina Sapienza, che guidi tutti i moti del Sacro Cuore, ispira e dirigi tutti i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni. Per le tue sofferenze, Gesù, per la tua passione dal Gezzemani al Calvario, per la corona di spine che straziò la tua fronte, per il tuo sangue prezioso, per la tua croce, per l'amore e il dolore di tua madre, fai trionfare il tuo desiderio per la gloria di Dio, la salvezza di tutte le anime e la gioia del tuo Sacro Cuore. Amen. Grazie.